pronti i chiarimenti del fisco sulla tassazione delle criptoattività sono definite criptoattività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritto che non rientrano tra gli strumenti finanziari per le persone fisiche le plusvalenze da criptoattività sono imponibili con la stessa liquida applicabile alle attività finanziarie cioè 26% a parte che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività di impresa di arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali alle società semplici ed equiparate e dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello stato con il nostro corso gratuito Grazie a tutti.